Lo scaricatore. Puoi costruire questo scaricatore con materiali vari di riciclo per salvarli dal destino di essere buttati. Il corpo centrale è fatto da una scatola di cartone. Le luci frontali sono fatte da celle a bottone. Le ruote sono fatte da tappi di bottiglia. I carrello anteriore si gira e si rovescia quando il pomello è premuto. Guarda come la leva fa girare il carrello. Riempi lo scaricatore con del carico. Premi la leva per scaricare le perline.